Cristian Kwame, sensazioni dopo questa vittoria contro il Catanzaro? Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel primo tempo, poi quelli che non sono entrati nel secondo hanno saputo gestire meglio le situazioni. Difficoltà? Sì, anche perché sono tanti nuovi, poi in preparazione sono le partite che quando sei in preparazione devi sapere gestire le cose. Abbiamo trovato una buona squadra che ci ha saputo mettere in difficoltà. Ma te sulla destra comunque hai fatto il tuo, nel tuo ruolo, hai anche creato delle situazioni pericolose? Io ho sempre detto che cerco sempre di dare il massimo, cerco sempre di dare il meglio di me e cerco sempre di fare quello che so fare meglio. E il mister quanto vi telecomanda da bordo campo? È normale, è normale che ci chiami, cioè che ci chiamano le giocante, perché lui è fuori e vede meglio di noi, perché quando noi siamo in campo non tutto riusciamo a vedere. Quelli che stanno fuori vedono meglio le cose, quindi ci aiuta anche in queste cose. Poi ho visto che nel secondo tempo l'hai vissuto da vicino, no? Anche stando in panchina è una furia. Il mister, come sempre. Io lo conosco l'anno scorso, quindi lo so come, pure te lo sai com'è il mister. O spegniamo i microfoni? No, possiamo spegnere, almeno sentono, anche gli altri sentono quello che si dice. Senti, adesso siamo quasi verso la fine di questo primo periodo di preparazione e come arrivate poi alla seconda fase? Come nel primo giorno che siamo tornati, perché sappiamo quello che ci aspetta e ci do un po' a parlare al meglio per affrontare la stagione. Grazie, Cri. Grazie.